Si scende, non ci si fa, si scende se non è la filiera. Quest'oggi dovrebbe essere un altro atleta che guida la corsa, non abbiamo riferimenti decisi, mi ricordo che è al passaggio dal fronteo della montagna, eccola qua l'uomo in maglia nera che la conti autosai, ragazzi chi è quello? Filippo Zana ha lasciato la compagnia di mafia Bebiracqua con cui aveva attaccato nella salita, occupare la seconda piazza, il campione italiano, partita Bebiracqua e poi notte uno dal terzo gradino del podio, con amico Iaflati. Tim Coratti secondo posto per Mattia Bebiracqua, dorsato e al derogato. l'applauso più forte lo voglio per lui per il campione che quest'anno è venuto a mettere il suo nome nell'almodoro a Rignano e vale a dire il campione della Contri Auto Zai Filippo Zana questo il podio con il vincitore Filippo Zana al secondo posto Mattia Bevilano